Dall'11 al 15 luglio prossimo nella villa comunale Longo di Battipaglia si terrà Vinora, un evento dedicato alla cultura enogastronomica che vedrà la partecipazione di numerose cantine del territorio e di altrettanti produttori di specialità locali. In tutto infatti saranno ben 10 le aziende vitivinicole presenti alle quali si aggiungeranno anche 8 produttori di specialità gastronomiche locali. Dalla frutta tipica della Piana del Sele, passando per gli oli prodotti sul territorio fino all'olio d'oliva. Senza dimenticare naturalmente la mozzarella di bufala di Battipaglia. L'offerta gastronomica sarà poi completata dall'area track food con altre specialità gastronomiche. Accanto all'iniziativa enogastronomica è prevista anche una ricca programmazione di eventi culturali. Ogni sera infatti sul palco allestito all'interno del parco cittadino si alterneranno diversi gruppi musicali. La scelta degli artisti che si esibiranno, operata dal maestro Riccardo Conforti, coprirà un vasto repertorio musicale. L'area concerti tuttavia non sarà l'unica offerta culturale dell'evento. Ogni sera, secondo il programma stilato dalla giornalista Alessandra De Vita, saranno presentate le opere di scrittori locali.